Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso di 5 aziende agricole, ha annullato una circolare dell'autorità di gestione che fissava un criterio per la verifica della regolarità contributiva delle imprese nell'ostilare la graduatoria del Bando Programma di Sviluppo Rurale della Regione, sulla misura 4.1a. L'effetto di questo provvedimento è che circa 100 aziende dovranno essere escluse dai benefici. Sulla stessa graduatoria, sempre il TAR, si è espresso un mese fa su un altro ricorso, decretando l'annullamento dell'elenco dei vincitori. L'autorità di gestione della Regione Puglia adesso dovrà redigere una nuova graduatoria, escludendo quanto stabilito dalla circolare annullata. L'amministrazione regionale, chiariscono subito Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura, e Rosa Fiore, autorità di gestione del PSR Puglia, si adeguerà alla sentenza nel solco dell'impegno già intrapreso per addivenire quanto prima alla definizione di una nuova graduatoria, dopo aver verificato, chiariscono per tutti i partecipanti le domande presentate, con particolare riferimento alla redditività degli investimenti proposti. Ad oggi, aggiungono Nardone e Fiore, è stata realizzata l'istruttoria di oltre il 65% delle ditte partecipanti e si confida che la nuova graduatoria potrà essere definita ai primi di luglio. Sulla vicenda si è scatenato l'ex assessore alle politiche agricole, Leo Di Gioia. Questa è una sconfitta annunciata che nel mese di dicembre 2019 aveva tentato di scongiurare, chiedendo in sede di Consiglio regionale al Presidente Emiliano di intervenire per revocare atti palesemente illegittimi. Ma il Presidente Emiliano in quell'occasione preferì andare via. L'effetto di questa sentenza sarà quello di estromettere circa 100 aziende dichiarate beneficiari che non avevano né titolo né diritto ai sensi del bando e delle leggi nazionali e che ad oggi hanno già percepito parte significativa del contributo. La Regione ha compiuto un disastro, non si contano più le figuracce sulla gestione del PSR, commentano dal gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. È un disastro che porta il nome di Michele Emiliano, che ha abbandonato gli agricoltori, hanno aggiunto dei gruppi di Forza Italia e Fratelli d'Italia. È fin troppo facile prevedere un nuovo contenzioso che vedrà soccombere l'ente, concludono.